Sono stati 128 gli studenti dell'Eceo Scientifico Fermi Monticelli di Brindisi guidati dai docenti che hanno visitato a Taranto lo stabilimento Irigom e il parco eolico di Renexia. Ad organizzare la visita è stata Lega Ambiente Puglia e il circolo di Lega Ambiente Brindisi a chiusura di un articolato percorso didattico sulle fonti rinnovabili svolte dagli studenti che hanno partecipato con grande attenzione e coinvolgimento. Lega Ambiente da tempo è impegnata a dimostrare che l'uscita da tutti i combustibili fossili, compreso il gas metano, non è futuribile ma sta avvenendo anche in Puglia grazie a imprese che hanno voluto e vogliono investire sulle fonti rinnovabili malgrado le lunghe procedure burocratiche che sono costrette ad affrontare. Il parco eolico di Taranto è un piccolo esempio virtuoso di quel che potrebbe essere un parco eolico offshore se rispondente alle osservazioni presentate da Lega Ambiente in un procedimento in corso presso il Ministero dell'Ambiente. Lo stabilimento Irigom dimostra in particolare che non solo è possibile giungere al riciclo, al recupero e al riuso di componenti di pannelli fotovoltaici dismessi ma che ciò avviene oggi in Puglia laddove Lega Ambiente, come già recentemente documentato, sostiene in pieno il polo energetico delle rinnovabili programmato da Enel a Brindisi e le filiere connesse che garantiscono un futuro sicuro per tante imprese e per molti lavoratori. Grazie. Grazie. Grazie.